Io una cosa così non riesco neanche a immaginarla, a raccontarla. Pensavo che da un momento all'altro crollasse ogni cosa. Un sfascello, un rumore indescrivibile. Non è che si può paragonare qualcosa, non sarei capace di paragonare niente, la paura ci ha sbucciato. Notte di paura nell'Aretino per la violenta ondata di maltempo che ha colpito a Macchia di Leopardo l'intero territorio provinciale. Qui ci troviamo in località Quarata dove è già iniziata la conta dei danni. Flagellate due aziende ed un'abitazione. In un caso parte della copertura del tetto addirittura è stata spazzata via dal vento, finendo così in un campo ad un centinaio di metri di distanza. Ha saltato tutto il tetto e la ringhiera lì, l'ha buttato tutto giù e la cancella, l'ha buttato giù. Il geometra dice che si fura 40-50 mila euro. I vigili del fuoco del comando di Arezzo nel corso della notte hanno effettuato circa 40 interventi. Prevalentemente il vento che ha rovesciato tegole, ha smosso tetti, ha fatto cadere piante, alberi pericolanti, rami rotti. Tra le zone maggiormente colpite Arezzo, in particolare Salleo e i via Ramelli dove sono cadute due piante, Guarata e la chiasa superiore. Mi sono svegliato dai fortissimi rumori dei tegolini e dei vasi che stavano un po' volando da tutte le parti, quindi mi sono anche un po' spaventato onestamente e ho visto che i rami e gli alberi si stavano piegando all'intensità del vento. Un'intensità così forte non l'avevo mai vista in vita mia, non so riconoscere se era una tromba d'aria o altro, ma era veramente violenta. Facevo fatica ad aprire la finestra per vedere cosa succederà perché sentiva queste ventali come un vortice proprio, una cosa impressionante. Tutte le strutture del ristorante, dei gazzelli, per me la stagione è finita, non solo il lockdown che c'è stato prima, poi anche questo. Flagellati anche Valdarno e Valtiberina, paura poi in Valdichiana, Cortona, dove attorno alle 3 di questa notte i pompieri sono intervenuti sulla strada provinciale 35, in località montanare dove una grossa pianta è caduta sulla strada, un'auto che transitava è rimasta coinvolta ma fortunatamente il conducente ne è uscito e l'eso. L'allerta meteo proseguirà anche nella giornata di venerdì fino alle 18.